buongiorno a tutti grazie della bellissima presentazione grazie chiaramente a tutto il comitato organizzatore grazie a titan di questo grandissimo invito e naturalmente a tutti i partecipanti fra cui ci sono molti amici e conoscenti che saluto insieme ad Alessandro c'è stato chiesto di portarvi una relazione breve su questo su questo topic che è un po' uno dei nostri topic preferiti diciamo e cercheremo di fare appunto una carrellata possibilmente senza invadere il terreno ad alcuni dei colleghi e amici che seguiranno io Alessandro vado io e ti passo la parola volta per volta ok lavoriamo insieme da ormai vent'anni condividiamo la gestione di uno studio in Milano centro abbastanza grosso importante con un buon volume di pazienti ormai dedichiamo 60 40 del nostro tempo alla clinica e spittandola all'attività formativa abbiamo da poco fondato un'education abbiamo la fortuna di avere una filiale uno showroom che molti di voi conoscono di dental tray proprio di fronte al nostro studio quindi questa per i corsisti per i colleghi che frequentano la education è una grossa opportunità perché basta attraversare la strada e salire in studio per chi di voi ci conosce ma anche per chi non ci conosce queste sono le immagini che fanno parte della nostra clinica noi facciamo un po di tutto io in particolare ma anche Alessandro io in particolare mi dedico sia alla perio implanto faccio molta chirurgia ma anche Ale nelle sue giornate fa un po' tutto molta restaurativa molta adesiva pre e post endodontica molta endodonzia essendo io socio attivo della SIE di cui faccio parte del consiglio direttivo quindi sia in studio nell'attività privata sia nei rispettivi reparti si respira da noi devo dire una un'area molto multidisciplinare nella quale per me che vengo dal mondo del laboratorio essendo stato donto tecnico ma anche per Alessandro per motivi gnatto correlati la protesi la fa un po da padrone il direttore d'orchestra il protesista direttore d'orchestra ha detto un po quelli che sono i tempi in una riabilitazione specie se importante e quindi devo dire che in quest'ambito la funzione in particolare è benissimo e molto in modo molto importante integrata io ho la fortuna grande di avere al mio fianco non un ognatologo qualunque ma Alessandro che molti di voi conoscono e che ha un ruolo importante all'interno dell'IG quindi avere la fortuna di avere al proprio fianco il presidente eletto dell'Accademia Italiana di Gnatologia dell'Associazione Italiana di Gnatologia non è una cosa da sottovalutare da tutti i giorni quindi grazie Ale. Sono altrettanto fortunato ad avere te, la nostra è una coppia che funziona. Bene, quali sono i parametri per una corretta riabilitazione occlusale? Molto velocemente direi che a noi viene richiesto noi protesisti di conferire alle nostre riabilitazioni stabilità occlusale nel tempo sicuramente le riabilitazioni devono avere dei contatti occlusali posteriori simultanei bilaterali e garantire guida in protrusiva in lateralità in armonia con il sistema all'interno della quale la riabilitazione è integrata. Chiaramente in 20 minuti descrivervi i 5 step che vedete riassunti qui è impossibile però sicuramente per venire un po' a bomba al topic noi quando dobbiamo riabilitare un settore o due settori in antagonismo quindi in modalità conformativa facciamo riferimento alla massima interpositazione delle pazienti. Diverso il discorso è se invece dobbiamo riorganizzare un po' tutto quindi queste sono le classiche situazioni nelle quali abbiamo bisogno di un repere quindi riassumendo velocemente in massima interpositazione, in approccio conformativo secondo i dettami e secondo il diagramma di Posse facciamo riferimento a una dentatura residua che è affidabile che quindi deve essere utilizzata come riferimento per lo sviluppo degli aspetti statici e dinamici del restauro, viceversa abbiamo bisogno di un repere di riferimento quando non abbiamo più riferimenti e quando il paziente deve essere riabilitato in modo abbastanza più complesso. Esatto. E se non senti un rapidissimo intervento è proprio lì in prima visita che la stabilità occlusale significa anche stabilità della risposta muscolare quindi lì TITAN si inserisce alla grande. Certo. Devo dire che in queste situazioni nelle quali dobbiamo riorganizzare tutto 90 volte su 100 come sicuramente il dottor Cacioppo spiegherà e quindi non vogliamo invadargli il terreno abbiamo anche necessità di incrementare la dimensione verticale quindi abbiamo necessità di deprogrammare il paziente per registrare rapporti intermacellari e i modi attraverso i quali è possibile deprogrammarlo per fare la registrazione sono molteplici come sono molteplici gli step e le modalità per passare a una DVO incrementata non ce n'è uno, ce n'è più di uno. Casi deprogrammer se abbiamo bisogno di deprogrammarlo lift gauge anteriore o bike plane anteriori o lussi a gig li usiamo un po' tutti. In questo primo caso per esempio noi siamo passati da questa situazione a questa attraverso chiaramente diversi mesi di cure utilizzando in fase preliminare un dispositivo di rialzo che al momento opportuno è stato separato in due quindi destra e sinistra abbiamo fatto fare al paziente un salto tra virgolette alla nuova DVO sui primi provvisori dopo aver opportunamente testato e vagliato il fatto che lui potesse sopportare questo salto. Giusto Alessandro? Il bike è esattamente la prova generale della nuova dimensione verticale vero che in letteratura si legge che si può agire liberamente sulla dimensione verticale perché in genere il paziente si adatta la faccio breve in realtà in genere il paziente si adatta ma quelli che sono qui in questo momento a sentire sanno che questa situazione non è costante a volte il paziente non si adatta quindi ci occorrono dei parametri di riferimento e diciamo che in molti casi la clinica ci indica che non è prudente passare immediatamente a una nuova DVO che cambia i parametri in modo importante senza testarla con uno splint che quindi dà stabilità e dà funzione e utilizzando lo stesso splint spesso per una replica su articolatore come in questo caso. Certo. Ok. Ci sono altre situazioni sempre riabilitative quindi in cui l'approccio è quello non conformativo ma riorganizzativo nelle quali sempre attraverso molteplici cure questo salto alla nuova DVO il paziente sempre prudenzialmente lo può fare però in un momento successivo nella fattispecie non sui primi provvisori questo paziente ha fatto questo salto sui secondi provvisori come vedremo e l'ABC del buon protesista è quella di impostare dall'inizio il caso specie se complesso secondo i canoni e i dettami che tutti conosciamo quindi trasferire il caso iniziale in arcofacciale montando i modelli e studiandosi di bene per arrivare ad avere un progetto full mouth in ceratura che possa idealizzare il caso già in fase di impostazione in fase di impostazione devo dire noi abbiamo sviluppato un approccio nel tempo che utilizza diversi gadget e device che Alessandro vi può brevemente spiegare sì questo è stato il caso tra l'altro nel quale ho conosciuto il Titan e immediatamente mi dispiace finito in pensione il vecchio mio elettromiografo perché le informazioni istantanee che abbiamo ricavato sono state tali da giustificare anche in un caso che poi abbiamo presentato in cui abbiamo vinto un primo premio importante giustificare il passaggio di strumento non c'è stato niente da fare perché la verifica clinica che conta perché la clinica ci guida sempre sul paziente è stata poi integrata da valutazioni stabilometriche da valutazioni kinesiografiche e in particolare da valutazioni elettromiografiche nelle quali i muscoli ci dicevano quanto fosse comunque mal tollerata l'occlusione da questo paziente la sua occlusione naturale e quanto il nostro percorso poi andasse nella direzione giusta quindi in fase diagnostica di gestione dell'occlusione nel corso del piano di cura e di follow up successivamente alla completazione del piano di cura è stato essenziale cioè devo dire che il report di Titan è talmente istantaneo che come si può vedere nelle immagini abbiamo cambiato cavallo in corso e qui è palese la differenza non capita spesso di avere la possibilità di avere entrambi gli strumenti nella stessa sullo stesso paziente quanto sia palesemente più evidente una valutazione strumentale elettromiografica moderna rispetto all'approccio che si aveva prima però questo diciamo che è cosa nota a tutti anche in questo caso lo splint è stato un modo per verificare su un paziente asintomatico che quindi non manifestava particolari problematiche ma che aveva buoni motivi sia motivi che clinici per poter essere un po' borderline nella sua capacità di integrare l'occlusione è un concetto moderno parlare di integrazione occlusale nel sistema generale ecco poteva non avere tutta questa capacità di integrazione e quindi un bilanciamento clinico a suon di frese e di palpazione ci ha portato però anche a questo tipo di possibilità che vedete qui cioè di verificare istantaneamente la possibilità di dare al paziente un'occlusione più equilibrata più bilanciata e quindi più tranquillizzante per noi che poi al posto di questa pezza di plastica nobile ma sempre plastica ci dobbiamo mettere qualcosa di più importante e durevole ecco questo dispositivo in questo secondo paziente è stato poi utilizzato non solo in fase preliminare ma come dicevo prima siccome nella fase preliminare abbiamo eseguito abbiamo avviato il paziente alle cure e abbiamo eseguito tutte le cure preliminari è stato utilizzato il dispositivo anche nel momento in cui dai primi provvisori che il paziente indossava alla DVO iniziale ha dovuto fare il salto alla DVO incrementata quindi questo dispositivo lo abbiamo utilizzato più volte sezionato, indentato, funzionalizzato in particolare quando il paziente è passato alla dimensione verticale incrementata con dei secondi provvisori a lungo termine che nel nostro caso lavorando molto spesso con il montaggio crociato queste sono le indentature le funzionalizzazioni del giga anteriore ci è servito per essere copiato diciamo quindi il provvisorio armato funzionalizzato e curato in dettaglio viene copiato nel limite del possibile con il montaggio crociato per passare alla riabilitazione finale senza cambiare cercando di cambiare il meno possibile quindi improntiamo i provvisori armati svolgiamo le registrazioni del caso e insieme all'amico e maestro Luca Vailati facciamo i diversi montaggi crociati per fare in modo che le cose cambino il meno possibile nel passare dal provvisorio al definitivo con un piattello anteriore in questo caso individualizzato tutto ciò per avere un'assonanza una similitudine confortata anche diciamo oltre che dagli strumenti dall'articolatore su cui ricordiamoci gli odontotecnici o in analogico o in digitale devono montare i modelli e quindi nello specifico a noi piace molto proprio utilizzare il titan in tutto il percorso in fase preliminare in fase di check intraoperatorio intra-riabilitazione e in fase comparativa alla fine quindi il titan integra proprio le cartine d'articolazione già si vedeva nelle immagini precedenti proprio un sovraccarico sinistro che poi è stato corretto efficacemente che era proprio la rappresentazione funzionale di quelli che sono i segni della cartina blu sull'occasione del paziente senza poi come dire trascurare gli aspetti clinici macroscopici perché è un paziente che impara a muoversi insomma è un paziente che comunque danneggerà di meno se stesso e il lavoro che gli abbiamo posizionato ok quindi queste sono le immagini finali in proiezione frontale del paziente con il quale come diceva Alessandro ci siamo tolti un po' di soddisfazione e questo è l'ultimo caso molto velocemente che volevamo condividere con voi un caso molto esteso di una paziente amica che io seguo ormai da 15 anni la classica situazione in cui tra l'altro moglie di un amico noto chirurgo estetico milanese durante gli anni sarà capitato anche a voi di seguire dei pazienti a cui fate la terapia spot l'intarsio la corona singola piuttosto che la singola prestazione e a un certo punto però per una serie di motivi dovete avere il coraggio di fermarvi in questo caso anche su richiesta della stessa paziente e di riprendere in mano tutto quanto nella fattispecie direi che le curve i piani e le guide non hanno bisogno di essere menzionate e spiegate quindi era in una situazione in cui si palesava una necessità sia protesica sia riabilitativa e protesica sia estetica sia funzionale e generale che è abbastanza evidente in queste immagini con delle curve e dei piani che andavano raddrizzati nel sistema non è difficile se posso intervenire pensare che con un piano occlusale inclinato in quel modo la paziente avesse una incoordinazione con di lomeniscale a sinistra perché chiaramente questa era un'occlusione che stava drammaticamente scivolando verso la sinistra della paziente sì quello che tu dici si evince dalla prima foto in basso a sinistra dove si vede un'evidente latera deviazione a sinistra della mediana ecco chiaramente non tutti i casi che seguiamo sono casi così importanti anche noi casi normali perché molto spesso li riceviamo da alcuni pazienti che non sanno un po' come gestirli quindi il caso vi assicuro che è stato molto attentamente studiato in fase preliminare sia in in un'ipotesi diciamo conformativa e minimale questo è un DSD minimale sia da un punto di vista ortodontico però alla fine abbiamo deciso di riabilitarla un po' tutta insieme appunto alla paziente stessa che ce lo chiedeva e in questo caso abbiamo deciso di abbinare in fase preliminare a un Lucia giga anteriore una placca posteriore nella convinzione che dovesse essere incrementata la dimensione verticale ricordiamo che la paziente non amava l'idea di applicare uno splint una placca prima del piano di cura allora nel momento in cui abbiamo registrato in questo modo una nuova dimensione verticale sfruttando la capacità di deprogrammazione spontanea di riposizionamento spontaneo della paziente che era conservata e abbiamo bilanciato lo splint posteriore come avete visto con una cura particolare come se fosse un bite questo è stato il giusto mezzo per essere testato col titan e utilizzato per il montaggio poi dei modelli su articolatore nella posizione che sarebbe stata quella di lavoro finale ecco separati i modelli in articolatore la separazione testata è stata sfruttata per idealizzare una ceratura full in laboratorio che è stata poi copiata con delle mascherine per essere stampata in bocca quindi questo è il mock-up su base Whatsapp stampata in bocca che ancora una volta non solo da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista funzionale abbiamo potuto testare con il titan questo è un po' una slide che riassume un po' tutta la fase di impostazione del caso abbastanza complesso devo dire quindi il valore del mock-up diventa funzionale non ha e non dovrebbe avere un valore esclusivamente estetico perché l'estetica in una funzione scorretta ci porta delle brutte quindi si vede benissimo in basso sinistra come la prevalente attività soprattutto del temporale sinistro se sia bilanciata in modo valido non dico perfetto già sul mock-up ma la cosa bella era che associato a questo valore strumentale c'era una percezione personale della paziente di grande comfort e di finalmente corretta occasione pur permanendo lo vedremo dopo però una tendenza al sovraccarico sinistro allora in un approccio che volevamo mantenesse delle caratteristiche reversibili totalmente reversibili abbiamo fatto preparare 28 provvisori tutti no prep quindi senza toccare i denti con facoltà quindi di poter regredire e tornare alla situazione iniziale se fosse successo qualcosa di non gestibile provvisori in composito che abbiamo incollato adesivamente come vedete a destra come se fosse dei definitivi nella logica di andare poi a preparare al di sopra degli stessi protesicamente nel passare da questa DVO incrementata quindi subito quindi questa è una speed up la Francesca vai ai lati definirebbe speed up questa al lavoro definitivo abbiamo approfittato per fare un po' di parodontologia questi sono i provvisori cementati testati e anche in questa slide vedete riassunto un po' tutta l'impostazione del caso in cui l'utilizzo del titan è evidente giusto Alessandro? certo è assolutamente pratico anche perché è stato fatto un incremento di dimensione verticale ma anche un basculamento mandibolare e un paziente con un cross sinistro che tende al cross sinistro passerà il suo tempo cercando di ripristinarlo perché ci metti un po' a riadeguarti ecco perché è stato necessario dopo un certo periodo di cure legate al tuo approccio parodontale endodontico sempre magistrale provvedere anche a una nuova diciamo così centratura dell'occlusione per una progressiva abrasione dei provvisori di sinistra quindi da qualche parte abbiamo posizionato materiale dall'altra parte siamo andati per sottrazione e guidati ovviamente si vede nella slide successiva come vedete nel rispetto dei movimenti articolari che sono stati sempre monitorati per portarci a ritrovare quella spontanea centratura diciamo della mediana che non è un riferimento assoluto ma in questo caso lo era e come si vede nel video in basso a destra è stata recuperata rispetto a quello di sinistra nel quale invece la paziente progressivamente aveva abraso e perso un po' di dimensione verticale sinistra allora molto velocemente non volendo rubare tempo agli altri colleghi possiamo dire che in questa situazione come nelle altre degli altri due casi chiaramente se l'idea è quella di diciamo spaccare il cappello con la precisione del provvisorio e di copiarlo nel passare dal provvisorio al definitivo le cose devono essere perfette già sui provvisori che sono un po' come si diceva il marchio di fabbrica del protesista quindi la sana shieldstock destra-sinistra che non si spila e poi per finalizzare il montaggio crociato per finire e terminare per settori quindi settore con le facette frontale inferiore poi settori posteriori diatorici i diatorici superiori e infine settore frontale superiore con le immagini dei vari movimenti dei vari step quindi le impronte per le facette i solchi guida sui diatorici posteriori e sui diatorici superiori corone laddove c'erano già delle corone intarsi o tabletop dove c'era bisogno di incrementare e di aumentare un po' i balconi sul chi guida davanti utilizzando le frese dei sistemi minimamente invasivi dei particolari le immagini delle impronte il riassunto delle diverse registrazioni perché con il montaggio crociato è necessario eseguire tante registrazioni i secondi provvisori stampati in bocca perché i primi sono stati preparati ai momenti delle cementazioni semiadesive e adesive quindi zirconia monolitica combinata con il silicato di litio monolitico nei vari settori i rapporti a riabilitazione conclusa con le labbra che magari l'amico chirurgo estetico durante la riabilitazione ha ritoccato anzi senza magari e le immagini finali che testimoniano un buon rapporto con i tessuti periorali da parte delle corone e delle faccette che abbiamo cementato la situazione pre e post le guide ripristinate in statica e in dinamica in protrusiva e in lateralità il report finale Ale in due parole stiamo sconfinando il report finale sì siamo giusti giusti aventi allora il report finale è fondamentale abbiamo detto che all'inizio Titan ci dà informazioni sulla situazione preliminare del paziente capacità o meno di accettare nuove variazioni e soprattutto situazioni di base già critica oppure no a metà strada ci conforta sulla correttezza del mantenimento della posizione e alla fine ci conforta sul fatto di non avere sovraccarichi sul nostro lavoro perché il sovraccarico da qualche parte va a finire e quindi rispetto a una placca noi ci possiamo trovare la possibilità invece sull'occlusione poi di bilanciare finalmente l'occlusione per passare poi a una situazione più affidabile perché da qualche parte il sovraccarico va e se non si spacca qualcosa in bocca saranno poi muscoli o articolazioni a farne le spese ok questa quindi è una una delle rare situazioni in cui io da un punto di vista protesico ho ritenuto opportuno abbinare delle corone monolitiche eseguite con il cutback quindi totalmente monolitiche nella porzione posteriore e superiore dove avevamo bisogno di corone di non di faccette per gestire l'overbite l'overget alla nuova DVO a delle faccette inferiori anche lì totalmente monolitiche quindi quelle che vedete sono delle faccette come si dice pitturate non stratificate in una paziente come diceva Alessandro che quando come si dice in buon italiano quando serra e chiude quando sgania sgania cioè una che veramente ha una forza sui massetteri notevoli e queste sono le immagini radiografiche in visione generale e in particolare con status da 21 che testimoniano la chiusura del caso grazie grazie a tutti anch'io colgo l'occasione per ringraziare dottor Guidolin Ranzani lavorone tutti coloro che comunque sempre ci hanno affiancato anche proprio come supporto notevole di assistenza di organizzazione dei corsi e di questo bellissimo evento e un caro saluto ai colleghi che parleranno dopo di noi che stimo e conosco tutti come te Cristiano con i quali sono ben felice di trovarmi in compagnia grazie grazie a voi davvero chiedo al dottor Coreini se gentilmente può interrompere la condivisione dello schermo e nel mentre è arrivata una domanda sul caso per cui vi neggo la domanda vorrei chiedere ai relatori che arco facciale usano e qual è il piano di riferimento è interessante la risposta che si può dare e non so se Cristian può ricondividere lo schermo con la slide con il doppio rilievo di arco facciale che avevamo fatto a Elena perché abbiamo a disposizione diversi strumenti noi in studio abbiamo più di un articolatore troviamo spesso l'articolatore il Gearback l'Artex davvero pratico e comodo così come l'arco facciale che vedete rappresentato nella slide condivisa in questo momento capita però di utilizzare il SAM quando è necessario impostare con rigore i piani articolari e quello clusale o il cavo il protarset quando invece ci serve un rilievo assiografico rigoroso quindi a seconda dei casi questo è un arco facciale a punto di rotazione articolare arbitrario pratico utile che nel caso che vedete è stato utilizzato in due modalità con un doppio rilievo perché se nella zona di sinistra della slide potete vedere come sia stata rilevata la posizione anatomica del piano clusale in rapporto a una posizione arbitraria articolare che è generalmente abbastanza corrispondente quindi ci sono casi in cui ci si può permettere questo questa paziente ha ricevuto prima una assiografia proprio per verificare dove si trovassero i punti di rotazione e siamo poi passati però a uno strumento molto maneggevole come l'Artex nella immagine accanto invece è possibile vedere come abbiamo rilevato un secondo arco facciale facendo anzi l'ha fatto Cristian flettendo l'arco in modo da renderlo parallelo al piano bipupillare per ottenere anche un riscontro estetico quindi sulla sinistra estetico sulla destra funzionale combinando questi falori noi siamo certi primo che quando viene bilanciato il lavoro sull'articolatore progettato i piani delle guide i piani occlusali e quelli delle guide sono impostati nel modo più corretto e funzionale per il paziente il secondo quello estetico che vedete sulla destra è quello invece grazie al quale noi siamo certi che mettendo in bocca poi il mock-up al paziente non abbiamo un piano occlusale improponibile dal punto di vista estetico quindi il doppio rilievo nei casi come questo è piuttosto utile spero di aver risposto non so se Cristian vuole integrare la mia risposta con un servizio l'unica integrazione che mi viene è questa che lavorando in questo modo secondo i concetti enunciati con Luca che insomma è un tecnico scuola IOP che di solito imposta i casi di questo tipo in modo tale che con ripeto la possibilità di voler e di dover copiare nel limite del possibile il provvisorio nel passare dal provvisorio al definitivo ecco oltre ai settaggi posteriori lui di solito costruisce sulle guide dei provvisori in protosione e lateralità anche un piattello anteriore individualizzato come vedete in modo che ci sia un'assonanza tra l'articolatore e le guide e i cestelli posteriori esattamente in questo senso facendo poi come si vede nella slide 47 qua in basso a sinistra dello schermo la verifica funzionale di un caso se noi abbiamo un caso in cui l'arco facciale che è il minimo indispensabile per poter impostare correttamente il suo articolatore cioè non si può lavorare senza viene correttamente montato i modelli correttamente montati possiamo aspettarci già in partenza un assetto anche neuromuscolare favorevole quindi l'esame dell'attività muscolare con elettromografia di superficie ci conferma quello che noi stavamo già impostando da un punto di vista di laboratorio clinico protesista agniatologo tecnico e a volte osteopata dialogano grazie anche alla possibilità di convidividere questi valori strumentali che ci dicono guarda che carichiamo un po' troppo a sinistra un po' troppo a destra se c'è un buon montaggio c'è poi un buon risultato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti